Allora, 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 quando arrivo? Non è che posso aspettarlo fino a sera, quello. Mi porta sto gasolio bene, se no, vabbè, in casa c'è Christian, forse. Non gli viene ancora l'idea di aggiustare qualche finestra che secondo lui è rotta, ma forse solo secondo lui. Ah, eccolo qua, guarda, eccolo qua. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Eh, ok, sì, eccolo qua, allora, la cisterna è questa. Ok, allora faccio manovra. Ok. Non mi dispattrattore, quello. Venga. Ancora? Mi schiaccia questo. Ancora un po'? Ok, basta. Quanti sono? Allora, vi hanno detto sui 300 dovrebbero bastarci per un po' di tempo. Poi al massimo ci risentiamo più avanti, ma penso che per un po' bastino. Ok, benissimo. Eh, sento, sì, dica. Sono 80 centesimi al litro. Ok. Eh, vabbè, in casa c'è comunque mio cugino oggi e poi ci pensa lui a tutto, io vado che devo fare dei lavori. Ok, benissimo. È in casa, suona, suona il campanello, lui arriva, ci pensa lui, dai. Va bene. Almeno fa qualcosa. Arrivederci. Arrivederci. Di qua nessuno, di qua neanche. Ok, andiamo. Ok, andiamo. Ah, ecco qua il campo. Che sia Stefano quando si accorge che ho preso io il fendolo. Non lo vede più là. Venta matto. Sì Vediamo un po' cosa salta fuori Anche con sto rafano orifero Si cambia qualcosa Proverò a chiamare quel tipo là Adesso che lo zio è sparito Ogni tanto ci serve una mano Anche lui però Ho capito che è fissato questa segretaria Ma Non è che può sparire così Allora finisco il campo Poi lo chiamo Ok Dovrei aver finito Sì si è passato un po' dappertutto Ok intanto che si richiude provo a chiamarlo Allora Cerchiamo un numero di quello là Dov'è? Allora Sarò sulla S Sì Ah si è questo qua Eccolo qua Va però chiamarlo Sentiamo un po' Per rispondere perché poi non può Pronto? Pronto? Ah pronto Buongiorno Signor Simone giusto? Sì sì sono io Ecco Senta Mano dell'azienda Ah si si Eh ascolti Volevo Farle una proposta Anzi Possiamo incontrarci Magari così ne parliamo meglio A quattro occhi Certo certo Dov'è vuole incontrarsi A prendere un caffè Oppure Nell'azienda A prendere un caffè Ah e posso da lei Più tardi allora Ah va bene Allora ci vediamo dopo Verso che ora? Eh Mi faccio vedere adesso Sono Le due di pomeriggio Verso Adesso le nove Le dieci praticamente Quindi Sì credo di aver finito Adesso sto lavorando Poi Appena ho finito Insomma Credo sì Verso le due Ah va bene Ok allora ci vediamo le due Va bene A dopo Ok Adesso Devo andare a far Quell'altro campo là su E poi quegli altri tre Magari Lascio per ultimo Quel campo là Che è vicino a lui Così poi Faccio quel campo E mi fermo da lui Che è vicino Con fortuna Sono riusciti a seminare tutto Anche se poi Adesso Ho avuto qualche giorno Adesso si sta asciugando un po' Madonna Sai che poi il meteo Mette neve Entra un po' Settimana prossima Ma come l'anno scorso Che c'era giù Mezzo metro di neve Ciao Ma è in vendita qua Sembra in vendita È una zona bella grossa Devo informarmi Anche se non credo Di arrivarci Con i soldi Per potermelo comprare Però Non ci starebbe male Perché abbiamo Un poco spazio Ormai Ok Allora Ok Lasciamoli tutti Ok Dai che ho finito Questo Ok Questo è fatto Questo è l'ultimo Ok Ok Vigiamo di far presto Anche qua Finito anche questo Ah ok Partirò Sì Andrò da Quello rimbambito adesso Dai vado subito Così poi Sistemo tutto Metto via tutto E via Era No Questa qua Ah è lì fuori È sempre lì Che fa qualcosa Sto giandero Ah ma l'ha rimesso nuovo Non era così prima Aspetta che Spegno tutto Ok Buongiorno Buongiorno Eccolo qua Oh ma l'ha rimesso nuovo Johnny vedo Sì Abbiamo rivedicato tutto Eh vedo Il motore Tutto Adesso Ha messo bene Ok Eh oh Ah bello Bello Grazie Sì sì Meglio di prima Eh sì Sembra nuovo Sembra nuovo Sì ti ho speso un po' di soldi Però ne vale solo la pena No veramente Sembra nuovo E di cosa mi doveva parlare Ascolti Adesso in questo periodo Ho bisogno di Una mano Perché Cioè mio zio è andato Andato via È andato Vabbè Ci ha lasciato Ci ha piantato un po' lì In asso praticamente Ah ok Sì Vabbè tornerà più avanti Ma adesso E a fare le sue cose Ok E quindi Mi serve Una mano Perché Prima Sei liberato un posto Praticamente Ogni tanto Se è Se vuole venirci Da dare una mano Farò qualche lavorazione Sì sì Adesso siamo solo in tre Per alcune lavorazioni In tre Siamo Siamo pochi Sì certo Posso Soprattutto per Ad esempio Più trinciature Perché So già che Dovrò andare a trinciare Qualche campo Ah bello Più avanti Quindi Anzi Un po' di campi Quindi È meglio avere Un po' di personale In più Certo Ok Allora Poi ci mettiamo D'accordo Sì certo Lei intanto Il mio numero Lo ha Sì Siamo in prova Vediamo tutto Come va E poi Vediamo Va bene Va bene Ok Allora Niente Ci sentiamo Poi Ok Va bene Arrivederci Arrivederci Adesso mi giro qua Ce la faccio girarmi qua Ok Ok Beh Io vado a me A casa Da una lavata Tutto Lo metto via Ciao 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 Ciao